La vicenda dell'anziana di Adrano derubatamente dormiva nella sua casa del quartiere San Filippo di Adrano di cui ha parlato ieri il nostro Tg e che ha indignato la città, ha riportato in primo piano il fenomeno di furti e rapine ai danni di anziani che vivono da soli. Un fenomeno purtroppo ancora diffuso e la conferma arriva dal fatto che recentemente tali episodi sono stati messi in atto con modalità identiche. Il fatto che abbiamo raccontato ieri e sul quale sta indagando la polizia di Adrano dimostra che a prendere di mira vecchietti che vivono da soli sono delinquenti senza scrupoli, che pianificano la loro irruzione nelle case altrui molto probabilmente dopo aver studiato tutti i movimenti delle loro vittime. Come ha sottolineato ieri ai nostri microfoni Don Gaetano Milazzo, quello che ha colpito anche nel caso dell'anziana di San Filippo è che questi delinquenti hanno agito con spavalderia, saccheggiando una casa mentre nella stessa abitazione c'era la proprietaria che dormiva, prepotenti da cui è possibile aspettarsi reazioni violente se la situazione dovesse precipitare. Ricordiamo che i balordi hanno pure rubato alla donna la fede nuziale dal dito. Per fortuna la signora non si è svegliata e forse questo l'ha salvata, perché i malviventi avrebbero potuto picchiarla con conseguenze ben immaginabili. Come riferito ieri i balordi hanno svuotato pure il frigorifero, ma prima di allontanarsi indisturbati hanno in maniera quasi minuziosa trafugato l'abitazione della 78enne ad Anita. Hanno pure aperto alcune particolari bomboniere, pensando che contenessero oggetti di valore. Padre Milazzo ieri li ha invitati a convertirsi. Come primo passo noi ci accontenteremmo che questi signori consegnassero in qualche modo almeno la fede nuziale della signora. Difficilmente ciò accadrà, ma i miracoli possono accadere, se l'uomo a volte si ricorda di essere uomo.